La storia, la cultura, i paesaggi, i prodotti, i no gastronomici e tutto ciò che offre Monbaroccio è stato racchiuso in un video di promozione turistica presentato venerdì sera alla cittadinanza, rimasta entusiasta da queste immagini e dal lavoro svolto. Centinaia di persone hanno riempito il teatro comunale di Monbaroccio per assistere in anteprima alla proiezione del video realizzato per la Proloco da RC Media in collaborazione con Fano TV. Per l'occasione inoltre sono stati presentati i prossimi eventi che prenderanno il via domenica 24 aprile con la festa della Crescia Saikukon fino al pellegrinaggio votivo di Montefabri che a settembre chiuderà il programma estivo. La novità più importante è quest'anno che andiamo a Villa Grande a ripristinare una festa che c'era il patrono di Villa Grande, di Santa Susanna, il primo weekend di luglio. Qui stiamo facendo tanto, veramente tanto e nella dimostrazione del mercatino di Natale dove ha visto in sei giorni 30.000 visitatori nel nostro comune. Tutti i soci, tutti i cittadini invitiamo ad associarsi alla Proloco perché comunque ci sono anche convenzioni che non solo sono attive su tutto il territorio nazionale ma come Proloco abbiamo ideato anche delle convenzioni con tutte le attività locali, ristoranti bread and breakfast, agriturismi, strutture ricettive, negozi di qualsiasi genere. La forza e il volontariato è importantissimo. Le Proloco e tutte le associazioni ne sono la testimonianza soprattutto nei piccoli borghi che li rendiamo vivi e tra l'altro creiamo anche turismo perché tra l'altro le Proloco sono enti di promozione turistica. All'evento erano presenti varie autorità tra cui il comandante della forestale di Pesaro Emilio Acone, il consigliere regionale Renato Claudio Minardi, il sindaco di Monbaroccio Angelo Vichi. Come si fa a non essere orgogliosi di una realtà di questo tipo? Proprio come dire sentiamo che c'è un calore, una vicinanza delle persone all'amministrazione, alla Proloco, alle associazioni, insomma è un insieme che va continuato e coltivato, veramente una cosa fantastica. Buon baroccio, all'evento.